Buonasera amici telespettatori di Telestense, bentornati al consueto appuntamento settimanale con il punto sul calcio polesano. Buonasera da Riccardo Pavanello e da Alessandro Garbo. Ciao Alessandro. Ciao, buonasera a tutti. Allora questa settimana non ha giocato il Delta Portotolle, complice anche la Coppa Carnevale di Viareggio, dove sono impegnate tutte le squadre giovanili dei grandi club italiani. E dunque la protagonista della settimana è sicuramente l'Adriese, che è andata a vincere in casa grazie a questo scossone proveniente dalla panchina con il nuovo allenatore Santi. Garbo, facci il punto. Sì, l'effetto Santi si fa subito sentire in casa dell'Adriese, visto che i Granata tornano a sorridere al Bettinazzi e battono 2-1 al fanalino di coda a Somma. Dopo lo svantaggio iniziale che aveva accettato le solite ombre sullo stadio dell'Adriese, la riscossa è stata portata dal duo non nato e dal col che ha ribaltato il match regalando così tre punti fondamentali per il debutto di Mister Santi. Alessandro, il Rovigo invece a Marostica non ha colto la ciliegia perché è andata a perdere 3-2, quindi un problemino per il Rovigo. Questi play-off si stanno allontanando. Sì, i play-off si stanno allontanando e soprattutto si stanno avvicinando i play-out perché il Rovigo LPC in questo 2013 ha avuto una preoccupante involuzione. Basti pensare che ha collezionato 4 K.O. in 5 gare, la difesa sta subendo il doppio delle reti rispetto al 2012, quindi la classifica comincia un attimino a preoccupare. Non è bastata quindi la buona giornata dell'attacco domenica per uscire imbattuti dalla tana della Marosticense. Adesso i biancazzurri dovranno tornare a lavorare sodo per ottenere sin dalla domenica dei punti preziosi e risalire così nella classifica d'eccellenza. Infatti appunto parlando della classifica, la Driesi a 19, il Rovigo a 23 e i play-off sono a 27 punti, quindi insomma un passo decisamente falso quello del Rovigo. A Carnevale ogni scherzo vale in promozione, appunto lo Scardovari è andato a vincere a 300 contro l'Union AT, vincendo addirittura 3 a 1. Insomma, pesca grossa dei pescatori. Sì, è stato un avvio fulminante quello dello Scardovari che si è portato in 8 minuti sul 2-0 grazie alla doppietta dello scatenato Sambo. Poi i pescatori sono stati bravi a controllare le sfuriate dell'Union e ad anestetizzare quel tridente temibile della squadra di Merline. Cestaro è riuscito ad accorciare, dopo nella ripresa, grazie ad ottime azioni di contropiede, lo Scardovari ha chiuso sul 3-1. È stata anche la domenica delle doppiette che ha consacrato definitivamente Luca Riberto come uomo copertina dell'Alto Polesine, visto che la squadra di Tessalini è andata a vincere 3-1 in trasferta contro il Casale Serugo, facendo altri tre passettini importanti nella corsa salvesta. Ottima anche la vittoria conseguita dal Portoviro e in un campo sempre difficile come quello dell'Hongare. La squadra di Annali vince 3-2 dove spiccano le due reti di Codignola e quindi è il primo sorriso per il mister Annali sulla panchina portovirese. Beh, guardando un po' la classifica, vediamo appunto Portoviro e Alto Polesine con 20, Scardovari 22 e Unionatì 26. L'Unionatì è al quinto posto, diciamo che la classifica è molto corta. Sì, la classifica è molto corta e può succedere ancora di tutto. Ricordiamo sempre che l'Unionatì ha quel famoso bonus ancora da giocarsi, vuol dire il recupero di marzo con il Villafranca per provare a scalare altre posizioni. Comunque incoraggiano anche le prestazioni di Portoviro, Alto Polesine e Scardovari. Adesso serve solo un po' di continuità le nostre tre squadre polesane per mettersi definitivamente al riparo dai guai. Prima categoria, Girone D, completamente dominata dal Polesine con quattro squadre rappresentanti del calcio polesano. In venta alla classifica la Fiesese, poi troviamo il Boara Pisani, l'Oreo Lastientese a occupare la quinta piazza dei play-off, Lazer grande, ormai la Fiesese fa veramente paura. Il Boara Pisani è andato a vincere in casa contro il Cavarzen, un match duro e importante. E l'Astientese ha rifilato addirittura tre sberle alla tagliolese appunto a taglio di po'. Alessandro. Sì, ormai questa prima categoria è un affare ristretto per le polesane, visto che le padovane sembrano un pochino tagliate fuori dalla corsa per il primo posto. La Fiesese batte 1-0 in casa al Ponte Coro con un rigore di Masin e poi l'assoluto protagonista diventa il portiere Catozzo che intercetta un altro penalty e conserva quindi questi tre punti d'oro per la squadra di Marzanati. Diciamo che c'è stata una frenata un pochino inaspettata dell'Oreo che in casa si è fatto fermare 1-1 dal Castelbaldo Masi con l'ex Unione T Vigna che ha risposto al vantaggio iniziale di Poncina. E' stata strepitosa invece la vittoria della Stintese che è andata ad anichilire con un secco 3-0 la tagliolese e per i Cielorossi adesso è vera crisi e i play-out stanno diventando qualcosa di più di un semplice incubo. Mentre ecco c'è stato anche uno 0-0 piuttosto incolore nel derby salvezza tra il Papos e la San Vigilio invece una girandola d'emozioni sul campo di Boara Pisani con i ragazzi di Selleri che hanno battuto 3-2 il Cavarzere grazie a una prodessa di vigorelli proprio allo scadere. Bene Alessandro e guardando appunto la classifica abbiamo visto i play-off guardiamo un attimo i play-out perché la San Vigilio è penultima con 13 punti e poi insomma troviamo il Papos e la Tagliolese a quota 20 insomma sono le tre squadre che rischiano in questa seconda parte del campionato. Sì ecco forse il Papos e la Tagliolese hanno qualche chance in più di evitare la lotteria dei play-out mentre ormai la San Vigilio sembra destinata a giocarsi il tutto per tutto nel post-season. Ecco invece la giornata ha sorriso al Boara Pisani che grazie al pari dell'Oreo è abbassato solitario al secondo posto e quindi prova ad inseguire la capolista fiesese. Bene andiamo giù in seconda categoria incredibile davvero la Villanovese è andata a prendersi la vetta della classifica con il Polipo Brancaglion e il Duca Simioli 2-0 contro il San Martino e Villanovese è in testa alla classifica sfruttando anche il big match finito 0-0 fra Badia e Vis Lendinara. Alessandro? Sì ecco la Villanovese dopo tante giornate sempre lì con il fiato sul collo della capolista approfitta del pari nel big match di Badia e quindi balza al comando della seconda categoria e ricordiamo che i neroverdi sono ancora l'unica formazione imbattuta di tutta la seconda polesana mentre ecco dietro fa dei passi avanti anche il Crespino che batte 3-0 il Frassinelle e dovrà ancora recuperare due partite e spicca anche la striscia positiva ottenuta dal Buara Polesine che infila il nono risultato utile consecutivo grazie anche alla doppietta di Ettore Agio sui Brucerchiati mentre ci sono delle vittorie toccassane in chiave salvezza sia per il Granzette che supera 3-2 il San Marco Arqua che adesso veramente non riesce ad uscire da questa profonda crisi di risultati e poi lo scoppiettante 4-3 del Canaro contro il Polesella dove c'è da registrare la doppietta di De Falco adesso il Canaro ha abbandonato l'ultimo posto e mette nel mirino anche il Bottrighe di Nasti beh insomma guardando anche le altre partite San Pio di rabbia che è andato a prendersi un punto a occhio bello contro la Vittoriosa e insomma il quinto posto è sempre a favore dei Rodigini guardando anche la parte bassa della classifica come dicevi tu Alessandro il Polesella adesso è scivolato all'ultimo posto con 10 punti causa la sconfitta interna contro il Canaro grazie anche a Bomber De Falco che è andato a siglare una doppietta importante appunto a Polesella e guardando le ultime 5 posizioni altro il Polesella troviamo il Canaro, il Bottrighe, l'Arqua Polesine e il Granzette Alessandro spostiamoci un attimino in terza categoria e facciamo il punto su quella veronese perché il Bergantino è andato a vincere contro la Capolista sì una grande impresa del Bergantino che con due reti di Lovisi supera 3-1 a Capolista Bonferraro è stata la partita perfetta per gli uomini di Bazzi che ottengono la vittoria prestigiosa insomma di questa stagione un pochino avara di soddisfazioni negli altri cironi invece c'è ancora questo continuo testa a testa tra la Turchese e il Medio Polesine nel gruppo B mentre l'Anguillara impatta 1-1 in quel di Pontecchio nel girone A la Ficarolese perde il derby con il Salara risolto grazie al solito gol dell'extraterrestre Merli mentre il Grignano di Dilena batte 3-1 la Lendinalese in trasferta è stato anche clamoroso il colpaccio della nuova Dacia Bagnolo che è andata a vincere 3-1 sul campo del Deserto terzo in classifica ecco di questo passo falso ne approfitta il Costa che vince e si porta sotto e si avvicina al terzo posto e a proposito insomma nella classifica vediamo appunto il Salara, Grignano poi Deserto, Costa e Sant'Elenese occupare le prime cinque posizioni nella terza categoria girone B invece in testa troviamo Turchese seguita dal Medio Polesine, Alessandro sì ormai è un testa a testa che si protererà pensiamo fino al termine del campionato visto che entrambe le formazioni vincono puntualmente ad ogni giornata di campionato abbiamo un'ultimissima parentesi nel girone A perché il Salara sfruttando il turno di recupero di mercoledì scorso ha battuto 3-1 il Rover di Crea ed è per questo che ha operato il sorpasso ai danni del Grignano bene e appunto tornando sul girone B vediamo appunto la vittoria del Medio Polesine 3-1 in casa del Beverare mentre la Turchese ha vinto 3-0 in casa contro il Guarda Veneta la Junior Anguillara purtroppo è andata a prendersi un ponticino solamente in quel di Pontecchio sì è sempre un campo comunque pericoloso quello di Pontecchio con i Granata che sono riusciti a bloccare il potenziale dei Padovani portando a casa anche alla fine un pareggio sostanzialmente meritato bene insomma dopo questa rapida carellata dalla Serie D alla terza categoria ovviamente noi diamo appuntamento alla prossima settimana sempre con il punto sul calcio polesano buona serata da Riccardo Pavanello e da Alessandro Garbo ciao Alessandro ciao buonasera a tutti